Buonasera ragazzi, vi benvenuti, vi facciamo un applauso per Roberto! Lui siamo forti! Più forte, più forte! E ancora una volta che ho perso, Ipi... Ura! Ipi... Ura! Ipi... Ura! Bene, con un grande applauso! E a questo punto vi facciamo fare un bel... Malletto! Malletto? Adesso vi facciamo fare un bel... Discorso! Lo sa, lo sa! Discorso! 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 Un altro applauso! Passo! Boris o! Bandè! Qui ci sono a rgottitli! Vai con Mento! Allora, buonasera a tutti, intanto, bravo! Poi, vabbè, voglio ringraziare tutti i presenti, è un mega paracista, bravo! E voglio che questa festa sia significabile, ringrazio soprattutto la mia famiglia, che ho un grande applauso anche al papà, che ha fatto il 5 anni con Puglione, ma ancora ragazzi a lui, ragazzi all'emilia e papà, ancora ragazzi amori, tra i suoi 19 anni, di età, 19, un anno, mi devo fare un anno, e papà gli faccio fare un piccolo discorsetto, quindi l'applauso è un giro, piccola, 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 gestione, piccola, 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 aiutate un po' di, la siamo in famiglia, vai! Due parole, tre parole. Anzi, per... Grazie per la bella presenza, volo... Ok, e sei giovane, un altro applauso! Sì, aiutà a questo punto, vi do ancora grazie.